La pulitura ci permette di apprezzare da vicino altri dettagli degli elementi decorativi realizzati dallo scultore bresciano Angelo Zanelli e dalla sua bottega. Una overture per scoprire da vicinissimo, le vesti e i visi delle figure in processione, i profili dei cavalli e gli intrecci espressivi tra le mani umane e gli oggetti inanimati. Grazie a tutti.